Maxi controlli dei carabinieri tra Bassano, Tezze e Cassola. I militari hanno rinvenuto diverse sostanze stupefacenti, per lo più per uso personale, hashish, cocaina e uno spinello pronto per il consumo, nascoste nei vestiti di sei giovani. Tutti segnalati amministrativamente alla prefettura di Vicenza quali assuntori. A tre di loro si è proceduto anche al ritiro della patente di guida. Un 23enne di origini marocchine, inoltre residente nel Pistoiese, è stato denunciato perché ha violato l'ordine del questore di Vicenza di ritorno nel comune di Bassano, mentre una 36enne, anche ella marocchina, è stata deferita per ingresso ai soggiorni illegali in Italia. In tutto sono state controllate 63 persone, 33 veicoli e 29 esercizi pubblici.